testa alta, il ballone per Chiesa, la mette giù, Chiesa, tira poi il sinistro, arriva Sala, vinta il cross, ci rasta Pezzella, Ramirez, si svila, trova spazio, parte il sinistro, sportiella poi, il stop di Caprari, è tutto regolare, è la sopra avanti, 32 sul cronometro, Chiesa, tira a 0, Sarpudani a 1, Caprari sulla corsa di Pratt, secondo palo Guagnarella che prova il numero, calcio di rigore, calcio di rigore, il tocco di Tomovic, è bellissimo, Guagnarella, non sbaglia, terzo per le due partite, è micidiale, 1-2 della Santo. Occhio al portoghese, ancora palo sul sinistro, trova il tiro a giro, Pucciori caccia d'angolo. Tratto a servire Sala, Ramirez è filtrato per Caprari, ha cercato il corpo di Bigliardo. Il tocco ancora per Gaspar, il cross riesce per un allentrato, Badell! Milan Badell, il primo e velo in campionato della Fiorentina, è croato! Grappalla, per Chiesa, la parata di Pugioni! Ecco il cross, Babacar! Ed incredibilmente il pallone non entra! Accelera Gaspar, cross morbido, Ferrari sul secondo palo, Chiesa! Tiro la versata a Chiesa, arriva il fischio finale!